carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore d'ora in eterno e la chiesa professa questa grazia questa verità a oggi dandoci la grazia di commemorare tutti i fredeli defunti che hanno lasciato questa terra anche tutti noi abbiamo parenti amici familiari persone conosciute che hanno lasciato questa terra è la domanda che tutti ci poniamo dove sono gesù nella sua infinita bontà ha voluto rivelare a noi il mistero di dio noi conosciamo dio così come gesù ce l'ha rivelato meglio come dio si è rivelato in lui poiché nella manifestazione del padre come dice la lettera ebrei è in bronda della sua sostanza è in radiazione della sua gloria in gesù noi vediamo la rivelazione di dio chi vede me vede il padre ha detto che accoglie a me accoglie colui che mi ha mandato io e il padre siamo una cosa sola se qualcuno non mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui e gesù ci ha rivelato questa grande verità dell'eternità della misericordia del signore e questa verità ci ha fatto scoprire anche qual è la realtà della vita dell'uomo al di là di questa vita gesù questo non l'ha fatto semplicemente dandoci degli insegnamenti pur validissimi ma con la sua testimonianza personale tanti hanno parlato della vita futura ma nessuno è tornato gesù cristo ha affrontato la morte ricordate detto di napoleone che diceva veramente gesù era figlio di dio mentre noi uomini potenti della terra per avere gloria facciamo guerre abbiamo bisogno di denaro di forze politiche e di guerre cruenti e via dicendo gesù invece ha scommesso tutto sulla sua morte ha sfidato la morte e ha vinto la morte con la sua gloriosa risurrezione non solo ha vinto la morte ma ha vinto anche tutte le avversità ecco allora gesù ci ha manifestato la realtà della vita futura con la sua esperienza personale vincendo la morte con la sua gloriosa risurrezione il giorno di pasca infatti si mostrò ai suoi discepoli vivo non solo si è mostrato ai discepoli ma durante la storia della chiesa continuamente si è rivelato e si rivela tanti rivelandosi apparendo ma soprattutto comunicandosi comunicando la sua vita partecipandoci del suo bene ecco la rivelazione che ci viene da gesù e questo amore di gesù è un amore che dura in eterno allora se noi ci chiediamo qual è la sorte dei defunti papa benedetto cimo sesto dice nell'enciclica spesalvi trattando di questo argomento quando una persona lascia questa terra incontra lo sguardo misericordioso di gesù che penetra l'anima e fa prendere coscienza all'anima della sua situazione ma gli manifesta anche la sua misericordia e l'anima stessa sente il bisogno di essere purificata di essere santificata ecco l'opera allora di gesù al di là di questa vita portare le nostre anime alla perfezione alla pienezza della vita e noi possiamo soddividere l'opera di gesù schematicamente naturalmente perché l'opera di gesù è un'opera unica quello di avvolgerci tra le fiamme del suo amore quello di immergerci nel suo cuore divino fino a che ci purifica da ogni scoria di peccato e ci ricolma di spirito santo ci trasforma in lui come l'oro che viene messo nel crogiolo perde le sue scorie diventa lucente così l'anima del defunto immerso nel cuore di gesù nelle fiamme ardente del suo amore purifica l'anima da ogni peccato e lo ricolma di gloria di spirito santo di potenza e lo introduci in quello stato di beatitudine eterno che noi chiamiamo paradiso e allora la domanda che noi ci poniamo come pregare per i nostri defunti eccolo la chiesa ci traccia un percorso di fede che consiste in questo nell'applicare alle anime dei defunti tutto quell'amore che gesù ha dato a noi sulla croce e questo celebrando per i defunti il sacrificio di gesù il primo modo per giocare le anime dei defunti applicare loro il sacrificio di gesù celebrare per loro il sacrificio di gesù la chiesa fa questo tutti i giorni in celebrazione equaristica la chiesa prega per i defunti ma rispondiamo prima una domanda ma possiamo noi giovare alle anime dei defunti e loro possono esserci d'aiuto ci risponde il catechismo della chiesa cattolica che appunto alla luce della scrittura parla di una comunione di amore che c'è tra i vivi e tra i defunti abbiamo citato più volte il catechismo della chiesa cattolica quando parla della comunione dei santi parla anche di questa relazione tra noi e defunti dicendo che coloro che camminano nella fede la comunione di coloro che camminano nella fede con coloro che sono trapassati sono morti non viene minimamente spezzata questa comunione con la morte quando piuttosto viene rafforzata con lo scambio dei beni spirituali c'è una relazione tra noi defunti non una relazione fisica per cui ci possiamo toccare ascoltare parlare ma una relazione nello spirito questo c'è allora noi possiamo giocare a loro comunicando a loro la grazia del signore partecipando alla grazia di dio condividendo con loro i beni spirituali che abbiamo e loro possono comunicare a noi i loro beni e queste esperienze le facciamo tutti ecco allora la chiesa ci indica questo itinerario per giocare i nostri fratelli diffunti prima di tutto la celebrazione per loro del che sacrificio di gesù la celebrazione dell'eucaristia per immergere quelle anime nell'amore che gesù ha dato sulla croce e celebrando avviene quando si celebra il celebrato cioè il sacrificio di gesù si rende presente nella celebrazione e questa è la prima strada il primo mezzo che la chiesa ci indica ricordiamo quello che dice san paolo nel quindicesimo capitolo della prima lettera ai corinti come i primi cristiani si facevano ribattezzare per i loro fratelli defunti in vista della risurrezione e quello che dice san pietro che gesù alla sua morte morto nella carne ma rese nello spirito in spirito andò ad annunciare la salvezza agli spiriti di coloro che attendevano in prigione essi un tempo avevano rifiutato di credere quando le magnanimità di dio pazientava ai giorni di noè vedete come c'è solida nella chiesa questa verità ma anche questa realtà della comunione d'amore in spirito tra vivi e defunti e alla celebrazione della messa fratelli noi dobbiamo applicare due atteggiamenti fondamentali primo la richiesta al signore del perdono dei peccati dei nostri fratelli non li dobbiamo accusare ma dal momento che nessuno è perfetto se conosciamo qualche debolezza o qualche errore o qualche danno compiuto qualche vizio eccetera ecco allora noi possiamo intercedere pregando per loro pregando per loro ricordate quello che si racconta nel secondo libro dei maccabei giuda maccabeo dopo una battaglia andando a raccogliere i corpi di caduti si accorse che tanti di loro portavano di portafortune sotto i mantelli allora disse che perché sono morti perché hanno confidato nella superstizione nelle divinità pagane allora fece una colletta la corse 2000 dragma d'argento e mandò questa offerta ai sacerdoti del tempio perché pregassero e offrissero sacrifici per espiare i peccati di quelli anime in vista della loro risurrezione ecco un atteggiamento allora che noi dobbiamo non trascurare ma praticare quando prendiamo coscienza quando una persona cara è morta si tende a cancellare tutto e dimenticare tutto benissimo ma se una persona ha lasciato questa terra non è la pienezza della pace con Dio ecco allora fare gesti di ispiazione gesti di purificazione chiedendo al Signore perdono per i loro peccati e in secondo luogo immergendo quelle anime nel fuoco d'amore del cuore di Gesù in che modo con la preghiera con la carità con la riconciliazione con i fratelli con cui siamo il leader perdonando il nostro prossimo e facendo soprattutto opere di carità verso i poveri e verso i deboli perché quell'amore che manifestiamo il Signore unito alla sua passione le usi le usi per portare pace alle anime Signore Gesù che sei il Signore dei vivi e dei defunti oggi ti affidiamo tutte le anime dei nostri cari ti chiediamo perdono per le loro debolezze tu sei venuto nel mondo non per giudicare e condannare tu stesso l'hai detto sei venuto per salvare per perdonare per condurre la vita eterna noi ti affidiamo oggi le anime tutti i nostri fratelli defunti ti chiediamo immergendo nel fuoco questo amore che brucia nel tuo cuore divino e purifica da ogni scoria d'umana debolezza accendilo la fiamma dello Spirito Santo trasformali in oro fanni brillare come astre nel cielo per la vita eterna all'ode gloria del tuo nome essi sono il Signore il tuo trofeo tu presenti davanti al volto di Dio Padre il tuo trofeo di gloria la salvezza delle anime e dono anche a noi Signore di partecipare con umiltà e semplicità ma con tanto amore a questa opera di redenzione a te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima in ogni chiesa c'è un'immagine che ti ritrae immersa tra le anime del purgatorio a spargere grazie a donare i figli tuoi a Gesù Cristo la chiesa ha sempre professato questa fede nel tuo amore materno oggi ti affidiamo particolarmente i bambini non nati i bambini che non hanno avuto una madre non hanno goduto dell'amore materno che non hanno goduto della gioia del battesimo tu come madre accogli e si do alla loro madre e dona loro tutto quell'amore che hai dato al figlio tuo a Gesù Cristo nutrila con quella fiamma d'amore che è nel tuo cuore materno falli crescere fino a raggiungere la piena statura di Cristo Gesù e per mano dei tuoi santi angeli portali in paradiso a gloria del figlio tuo Gesù Cristo che il Signore della storia il Re dei Re ha Lui gloria per i secoli eterni Amen e la pietà aversi dei fondi fratelli non ci abbandoni mai ogni giorno ci sia un posto per loro per presentarli davanti a Gesù ricordate le parole di San Padre Pio le anime del purgatorio che vengono a chiedermi aiuto che vengono a visitarmi sono più numerose dei pellegrini che vengono a partecipare alla messa da me Amen Grazie a tutti